Questo progetto del vivaio urbano, bosco urbano, qui a pochi passi, come la vedete? Cosa ne pensate voi operatori commerciali? Allora, appena abbiamo avuto la notizia, un po' così a ciel sereno, ci siamo un po' confrontati tutti e onestamente la cosa ci ha fatto un po' sorridere, se non proprio ridere, perché comunque la necessità nostra, la necessità ma anche della città, della scuola stessa lì di fianco, non è assolutamente un vivaio, che può essere come lavoro progetto bello, però tecnicamente non è utile a questa zona qui, perché necessitiamo di parcheggio. Per evitare di avere anche un po' meno traffico qui in via Cavour, visto che puntano tanto a questo traffico, sarebbe di notevole aiuto. Anche per il carico e lo scarico, ci sarebbero tante cose che gravitano qui, perché siete oltre una sessantina di operatori commerciali, e qui attorno non è solo quelli della via. Quindi insomma è una necessità dettata proprio anche dall'esigenza di far ripartire un po' l'economia. Assolutamente, assolutamente sì, perché tutto questo aiuta, perché stanno sempre riducendo sempre di più i parcheggi, soprattutto nelle vicinanze e i nostri clienti ne risentono. Molti si lamentano, si lamentano in tanti, perché stanno minuti e minuti a cercare questo parcheggio e le potenzialità, soprattutto qui, come l'ex Agip, servirebbero soprattutto per quello. Se si vuole veramente aiutare un po' tutto il centro storico, anche quello lì è un grande aiuto. A noi serve, serve alla città. Per voi operatori commerciali meglio una zona verde così, oppure qualcosa che serva per incrementare l'arrivo di clienti e del commercio? Inserire lì degli alberi in una confluenza tra due strade così importanti che hanno anche poca fruibilità, tuttosommato mi sembra una mossa sbagliata. Credo che una delle idee da cui viene a Scatorida è forse per far sì che le centraline che sono prossime, che rilevano l'inquinamento, possano abbassare i valori, ma sarebbe una carta falsa, non è una soluzione, è soltanto un coprire il problema. Secondo noi lì il parcheggio, anche proprio per le mamme che portano i figli alle scuole. Il parcheggio è lì, per poter fare in modo alla gente di entrare in centro e quindi anche cercare di incrementare il flusso di persone che entrano nei nostri negozi o a vedere la città. Perché servirebbe oltre a un'area di lunga sosta, un'area di breve sosta. Un'area di breve sosta, ci siamo anche detti tutti disponibili a pagare eventualmente il parcheggio della persona che viene da noi, acquista, fa un acquista qui, offriamo a noi il parcheggio, quindi anche per la città potrebbe essere comunque un incrementare le entrate. Fano, le nostre città sono piccole, la gente non vuole camminare più di tanto o lo fa per passeggio proprio, ma non perché deve andare per forza in quel posto. Allora, se il parcheggio è lì, via Gavur, che è tuttora una via abbastanza viva di commercio, può funzionare. Se no, con il verde, ma non perché io secondo il verde, chiaramente, il verde è poi visto in un'altra ottica, non lì. Lì non c'entra nulla, secondo me. Lì non c'entra nulla, secondo me.